Musica Ok Claudia, adesso mi devi dimostrare che riesci bene ad aver capito Cosa vuol dire stare sopra un oggetto, sotto, di lato, davanti, dietro Quindi quella è la nostra fronte, ok? E quindi mettiti davanti alla sedia e io ti dirò Sali sopra la sedia Sotto la sedia Vai, 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 brava Davanti la sedia Dietro la sedia Di lato la sedia Give me five Ok Claudia, adesso metteremo una musica Tu correrai Quando la musica si fermerà Tu dovrai fermarti Dove sei? Come una bella statuina Fermo, freeze Se io batto una volta le mani Tu a piacere ti siedi in uno dei cerchi Se io batto due volte le mani Puoi sederti nell'altro cerchio Se io batto tre volte le mani Devi ricominciare a correre Musica Via di corsa Claudia Corri, 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 corri Ok Ok Freeze Freeze Con eu Cochino Hoco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.